Sono stati resi noti oggi i risultati del primo semestre 2022 del gruppo Credito Agricole in Italia, che ha registrato un risultato netto aggregato di 564 milioni di euro, più 12% anno su anno. Sotto la guida di Giampiero Maioli, responsabile del Credito Agricole in Italia, le diverse linee di business hanno potenziato ulteriormente il loro coordinamento sinergico e hanno fatto registrare una crescita del totale dei finanziamenti e dell'economia, che si attesta a 93,7 miliardi di euro e una raccolta totale a 311 miliardi. Credito Agricole è presente in Italia sul secondo mercato domestico con circa 17 mila collaboratori e circa 5,3 milioni di clienti. Anche Credito Agricole Italia ha presentato i dati relativi alla prima metà dell'anno. L'utile netto consolidato ha raggiunto i 256 milioni. La base clienti ha fatto registrare 82 mila nuovi rapporti, più 5% anno su anno, di questi 46 mila solo nel secondo trimestre. Ha realizzato circa 290 assunzioni. Il gruppo Credito Agricole nel suo insieme ha ottenuto un utile netto report nei primi sei mesi del 2022 di 4,1 miliardi di euro. Il gruppo Credito Agricole Italia ha fatto registrare 82 miliardi di euro. non è un'ustandata an��are 22 miliardi di euro. Il gruppo Credito Agricoleadors ha fatto registrare anche melo tanti 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 e CS- patronati. Il gruppo Credito Agricole Italia ha cominciato denial-Partne Roderina GitHub Global locally imiettali di euro.